Easy go I punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate Quasi non basta Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente Sì signore Se posso signore, che succede? Ricognitori in arrivo, basta chiudo Non c'erano avvisaglie di quanto sarebbe accaduto prima di perdere contatto